Marco e Chiara, Abdul e Giovanni, Carla e Sandra sono tra i cittadini estratti a sorte che hanno ricevuto una lettera speciale dal comune di Reggio Emilia che li invita a partecipare a Move On Green, un progetto per migliorare la mobilità e gli spostamenti in città. Hai ricevuto la lettera anche tu! Che fortuna! Partecipa al progetto e segui le istruzioni della lettera. Ci aiuterai a rendere la tua città un posto migliore in cui vivere. Reggio Emilia è di tutti. Migliorarla è per tutti. Grazie per la visione!